Sicuramente è un argomento molto complesso che ci trasciniamo da anni. Non c'è stato solo il Consiglio di Stato, c'è anche stata una procedura di preinfrazione, c'è stato l'antitrust che si è espresso, poi ovviamente il Consiglio di Stato ha messo la pietra tombale con dei giudizi inequivocabili a parer nostro. Quindi chiaramente per quanto ci riguarda noi lavoreremo per arrivare a una procedura di bando pubblico su delle aree di demanio pubblico. Quindi su questo noi lavoreremo. Sicuramente, inutile nasconderlo, sarà complicato gestirla come maggioranza perché legittimamente gruppi che sono all'interno di questa maggioranza la pensano non all'opposto ma quasi. Ma io credo che dopo le sentenze il quadro è molto chiaro. Una forzatura in quel senso sarebbe molto pericolosa sia per gli operatori sia anche per una questione di conti pubblici perché se noi dovessimo andare in infrazione e poi dovessimo arrivare a sanzione i soldi sono pubblici, non sono soldi dei parlamentari della Lega, sono soldi di tutti. Quindi io vorrei evitare sia l'infrazione a livello economico sia anche il settore perché andando avanti a proroghe anche gli operatori che hanno bisogno di avere delle idee chiare non possono averle, quindi è fondamentale, normale, abbiamo ancora un anno di tempo, lo possiamo fare.